bella a tutti signori in la gioia per festeggiare la gioia credo che sarà anche l'ultima gioia perché non penso che nelle prossime 5 giornate avrò tante gioie però doppia vittoria in due fanta diversi e in un fanta andiamo terzi e nell'altra fanta andiamo secondi a meno un dal primo sono tornato sono tornato le vittorie ma vi racconto scritto com'è andata in un fanta praticamente ho scavalcato il quarto sono andato a terzo cioè ho scavato il terzo e sono andato al suo posto e ora sono a 48 punti il secondo sa 57 il primo sa 59 il quarto il quinto sta 44 e il l'ex qua terzo ora sta a 47 sotto la rima di un punto e c'è la prossima settimana conto di me tanto mi batte e tornerò quarto vabbè io e arte ci siamo e continuiamo a combattere fino alla fine punto e basta vi racconto qual è la presa formazione che aveva messo ve la mostro subito 442 golini in porta ovviamente a non ci siamo subito con la premessa grazie gasperini che hai voluto fare non so quanti turn over questa settimana con golini il papu picci e atbori in panchina grazie grazie ti adoro io ti odio ti odio ti odio ti odio ti odio ti odio maledizione vabbè golini in porta non ha giocato entra chi era in panchina chi era cranio 2 e mezzo perché ha subito tre gol da chi dalla sanf difesa 4 ma non ha smilankovic castagno e mancini mancini schifo castagno e milankovic 6 e mezzo gol di costas ma non ha 4 gol in una stagione al napoli bene signori questo vuol dire che abbiamo una gioia quattro difesa centrocampisti papu gomez mancosu brozovic caglione brozovic 6 e 7 mancato 5 e mezzo papu gomez non gioca chi entra chi entra scusate chi è che ha fatto il 17 e mezzo è chi è che ha fatto tre la tripletta contro il brescia è chi si chiama mario pasalic l'ho lasciato in panchina se non fosse per il papu che non avesse giocato l'avrei lasciato in panchina ma tanto vince lo stesso perché non c'è il mio avversario però mario pasalic super mario pasalic ti amo ti adoro ti adoro ti adoro bene grazie sei entrato e hai fatto il tuo dovere in tutto ciò attacco a due laovic lasagna ho lasciato petania e vabbè chi se ne frega tanto petania ormai sei forse avrebbe fatto mai di lasagna in tutto ciò ho fatto 77 ma tanto visto che la mia persona ha messo a formazione faccio direttamente 78 bella nell'altro fanta questione è un po più complessa ma con dieci giocatori dieci non 11 perché per problemi di giocatori non giocatori qua e la geggi giocatori succede che vi leggo la formazione ho messo un bellissimo 4 4 2 anche qua ok golini ovviamente non gioca nemmeno qua ma almeno il mio primo portiere è silvestre che ne prende due dalla mia amata roma ci sta quattro difensori mancini manolas colarov caldara mancini e caldara fanno schifo e penno a 5 colarov 6 e mezzo umile gol di manolas ovviamente e centrocampo a 4 però due non giocano i due che non giocano sono il papu e clayvert rayvert ormai è fuori dalla rosa però vabbè i due che giocano si chiamano mario passaric ancora una volta mario passaric mi hai sollevato il morale al martedì martedì ripete di passaric e io dico oh cominciamo bene insomma dai mancoso invece non fa più gol vabbè dettaglio a proposito chi è che subentra al papu uno che si chiama verre tu che è diventato magicamente come si chiama in breve rigorista al posto di colarov si esatto e quindi fa gol 10 tadaaa l'inetti secondo panchinaro 6 e mezzo vabbè attacco caputo 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 in assist caputo in gol contro chi scusate contro chi contro la juve il pare esatto contro la juve ops caputo che farsi il gol contro la juve è un magico momento per me vero dettaglio vabbè in tutto ciò non ha giocato icis perché gasparini io ti odio è lasciato in tribuna ha detto non anche in tribuna non è subentrato il primo attaccante perché con l'elius è uscito dopo 14 minuti è subentrato forse secondo e vlaovic che ha preso 6 forse e in questo fanta ora sono sono secondo a 45 punti il primo è a 46 caramagnani il terzo sta a 42 il problema principale delle mie bellissime giornate è il fatto che mi trovo alcune volte degli interisti accaniti contro no questi interisti hanno avversari e giocatori del tipo che si chiamano young screener candreva e come si chiama l'ultimo scusami biragi scusate se non fosse stato per io anche entrava entrava biragi che ha preso 10 e mezzo perché ha fatto assist e gol contro la spalla dettagli in tutto ciò per fortuna ho vinto questo ho vinto l'altro 3 a 1 3 a 2 questo non mi ricordo però ho vinto mancano ancora 5 giornate e dico negli due fanta ho la possibilità di recuperare perché vi spiego in breve se l'inter ha ancora la possibilità di recuperare 6 punti sulla juve finchè la matematica non li condanna io ho la possibilità di recuperare alle 9 e 1 1 è più semplice 9 un po' è più difficile noi tentiamo il tutto per tutto ci siamo punto e basta tanto la mia Roma al momento è ancora quinta per fortuna però stanno alla calcagna sia in Napoli che in Milan però vabbè in Italia e in tutto ciò niente vi ho raccontato come è andata la mia fanta calcio l'inno la gioia l'ho cantato e io le mie gioie vi salutiamo perchè penso che ne avrò tanto stile alla prossima spero di gufarmela spero tutto ciò bye bye dalle mie gioie e bella a tutti